Ciao! Allora, adesso in questo momento parte il nuovo giveaway natalizio. Lo so che c'è ancora aperto l'altro, ma questo è un altro diverso, perché in pratica dovete scrivermi qual è la vostra canzone di Natale preferita. Quindi ci sarà un solo commento per ciascuna di voi. Le regole per partecipare sono semplici, basta essere residenti in Italia, essere iscritti al mio canale e basta, mettere solo un commento e postare il video tra i preferiti. Tutto qua. I premi, ora ve li mostro. Eccoli qua. Bene, spero che i premi vi piacciano e che parteciperete in tante. Grazie, spero che i premi vi piacciano. Vi faccio sapere che il giveaway parte oggi, che è 6 dicembre, e terminerà il 12 questa volta. Quindi l'estrazione sarà il 13.